Un progetto interdisciplinare rivolto ai giovanissimi dai 9 ai 17 anni provati dai lunghi mesi di chiusura dovuti alla pandemia, educare e ricreare socialità, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Saccone in collaborazione con il Comune di Montecorvino Pugliano e il licio classico Torquato Tasso di Salerno, finanziato dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia del Consiglio dei Ministri. La Fondazione Saccone fondamentalmente si è presentata dal primo giorno di attività come un hub territoriale per lo sviluppo del territorio. Ricreare socialità è l'emblema di questa logica. La Fondazione Saccone proporrà nel palinsesto del programma delle attività due laboratori, uno di coding, un altro laboratorio sempre di 40 ore che abbiamo denominato Be Smart Kids. Poi avremo la rievocazione storica del Comune di Montecorvino Pugliano con la palio delle frazioni. Importante favorire la socialità dopo la prova del Covid. Bisogna recuperare alla vita quotidiana e sociale. Molti ragazzi, e sono tanti, che si sono chiusi nelle loro stanze e durante questo anno e mezzo hanno disimparato. Tante le attività che si intersecano con le tradizioni del territorio. Con l'ufficio politica e sociale e quindi i servizi sociali in sinergia già abbiamo individuato diverse famiglie da poter far partecipare. Quindi l'obiettivo principale è divertirsi nel momento giusto e far divertire e soprattutto riprenderci la nostra normalità.